Oggi ancora in corso al vertice sulla sicurezza di Monaco di Baviera, al quale la Premier Meloni non è potuta andare perché è influenzata, il presidente francese Macron ha detto che i paesi europei devono investire massicciamente in armi perché la guerra in Ucraina sarà lunga. Allo stesso tempo il presidente Zielensky che è intervenuto questa mattina ha detto che non c'è alternativa alla vittoria. Ma quindi l'Europa vuole la sconfitta definitiva di Putin e non lavorare e cercare al più presto una tregua? Io direi uno, Macron vuole la difesa comune europea. Penso che abbia ragione. Penso che per l'Unione Europea questa questione di cui si discute da 25 anni sia più che matura. Non credo che possiamo continuare soltanto a delegare alla Nato e agli Stati Uniti la nostra sicurezza. Certamente la Nato è fondamentale come vediamo in questi mesi, certamente il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale, ma se l'Europa vuole avere un futuro di autonomia strategica deve avere una difesa comune. Però è stato legato alla guerra in Ucraina e siccome anche le opinioni pubbliche in Italia di sicuro la maggioranza è contro all'invio di nuove armi, ma anche in Europa le perplessità stanno crescendo. Ma la difesa comune europea... No, ma qui non parliamo di difesa comune, qui stiamo parlando di invio ennesimo di nuove armi all'Ucraina e stiamo cercando di capire l'obiettivo di questa guerra. L'obiettivo è la destituzione di Putin. Ho letto il discorso. Ecco, no, ma chiedo a lei invece. Macron si riferiva alla difesa europea. Grazie.